è sempre una gioia essere qui stamattina e quale privilegio abbiamo di prendere questo libro questo libro che molti hanno sacrificato la vita per tramandarla a noi stamattina e la chiesa in tutti i secoli ha avuto tanti problemi, è vero abbiamo avuto tanti disastri, abbiamo avuto tanti pericoli e allora ti voglio chiedere stamattina, possiamo pensare un attimo qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere a questa chiesa ricordatevi una cosa, che la chiesa non è questo edificio noi possiamo incontrarci in un prato come molti credenti fanno nei boschi ma la chiesa siamo noi e allora ti chiedo, qual è la cosa peggiore che potrebbe succedere a questa chiesa locale potrebbe essere un terremoto l'abbiamo sperimentato, vi ricordate dopo quel grande terremoto ogni volta che scendevano i bambini per le scale ci fermavamo un attimo, non sapevamo se era un terremoto o i bambini erano i bambini vi ricordate il covid? ve lo ricordate ancora il covid? sembrava che finisse in mondo eppure siamo ancora qua potrebbe essere forse le imposizioni del governo che ci vieta di continuare a testimoniare, di parlare di Gesù di dire quello che c'è scritto nella parola perché sapete che ci sono cose scritte qua che mettono a pericolo la nostra esistenza come chiesa davanti allo Stato, davanti alle persone intorno a noi possiamo essere visti come intolleranti possiamo essere visti come persone ignoranti come persone che odiano quando invece noi abbiamo semplicemente questo ruolo di comunicare e di vivere la parola di Dio come lui l'ha dettata quali potrebbero essere le cose peggiori che possono succedere a questa chiesa? ho una buona notizia per te stamattina il testo che vedremo stamattina ci dà un indizio e guarda caso il testo che abbiamo visto la settimana scorsa bello lungo mi dispiace sono andato a vedere i minuti ho predicato per più di 50 minuti siete stati molto pazienti ma quel testo con tanti saluti con tante cose e il testo perfetto per introdurre quello che vedremo stamattina vi ricordate di cosa abbiamo parlato? l'ultima volta Paolo ha cominciato raccomandando chi? una signora vi ricordate come si chiamava? Febe che bravi simpatica questa Febe che ha portato questa lettera 1200 km a linea d'aria da Cencrea fino a Roma le parole di Paolo e poi dopo Febe questa serva della chiesa di Cencrea ha salutato tantissime persone di Roma più di 25 e il messaggio della settimana scorsa si riassume perfettamente in 4 o 5 parole dipende come le contate vi ricordate quali erano quelle parole? qualcuno si ricorda? l'unione non so se lo contate come 1 o 2 fa la forza abbiamo visto che ognuno di noi è importante per il lavoro di Dio nel mondo il messaggio della settimana scorsa si riassume con queste parole l'unione fa la forza perché ognuno di noi ha un ruolo importante da svolgere determinato già da Dio prima che noi fossimo nati ognuno in piccolo o in grande giovani vecchi contribuiamo al bene del Vangelo l'immagine che ti viene subito in mente sicuramente è quella di una catena e dov'è il punto più debole di una catena? nell'anello più debole è vero e così Paolo considerando questo ci lascia un'ultima esortazione un'ultima esortazione in questo bellissimo libro che ormai conosciamo da da diversi anni che abbiamo studiato insieme la forza della nostra unione dipende da diversi fattori ma ora Paolo ce ne offre tre infatti il titolo come avete già visto sullo schermo qua è tre atteggiamenti di una chiesa sana non 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 competerò con Mark Dever che ha scritto i nuovi tratti distintivi o segni di una chiesa sana però Paolo veramente oggi ci dà tre atteggiamenti di una chiesa sana e quando vedremo insieme capirete che senza questi tre atteggiamenti la nostra chiesa non soprovviverà nella prossima generazione preghiamo Padre Santissimo grazie per la tua parola grazie per questo avvertimento ma anche per questa consolazione che ci dai dacci l'atteggiamento giusto l'atteggiamento che che Paolo voleva desiderava e vedeva nella chiesa di Roma ti voglio pregare che noi possiamo prendere il loro esempio affinché la prossima generazione possa essere più innamorata di te più fedele a te di quanto lo siamo anche noi nel nome di Gesù a me se non l'avete fatto molti di voi l'avete fatto avete già il segnalibro fate bene a imbrogliare questo è un buon imbroglio quello di tenere il segnalibro in Romani ecco io imprimo Corinzi ma apriamo a Romani e se andate a Corinzi passate una pagina indietro arrivate proprio dove vogliamo arrivare oggi Romani capitolo 16 e cominceremo con il versetto 17 stamattina siamo veramente agli sgoccioli di una grande avventura in questo bellissimo libro di questa lettera di Paolo ai Romani guardate il versetto 17 e ditemi quali sono le prime parole che Paolo dice? cosa? la prima parola è ora e poi dice ora vi esorto fratelli ogni scrittura ispirata da Dio ogni parola è importante Gesù ha detto una virgola una iota della legge è da togliere o da buttare via ora vi esorto fratelli una cosa importante o forse almeno interessante per me è stata avete mai sentito questa espressione ora vi esorto o vi esorto fratelli vi fa venire in mente qualcos'altro che abbiamo studiato se no vi faccio un piccolo ripasso breve l'abbiamo già trovato in uno dei versetti più belli di Romani Romani 12 1 dove dice vi esorto dunque fratelli per la misericordia di Dio e poi l'abbiamo visto anche nel capitolo precedente a quello che stiamo vedendo in Romani 15 30 dove dice ora fratelli vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito quindi è già la terza volta che Paolo usa questa espressione e io non credo alle coincidenze quindi vi dico questo che ognuno di questi punti ha un invito l'invito primo Romani 12 a una vita di sacrifici viventi per Dio poi l'invito a combattere in preghiera e infine stamattina l'invito a fare molta attenzione quante volte i nostri genitori ci hanno detto fai attenzione il vostro insegnante occhio qua a baseball noi giocavamo a baseball Mark gioca a baseball e spesso dicevano occhio alla palla perché se ti arriva una palla da baseball in testa sono guai o sull'occhio la parola vi esorto quindi stamattina è un invito è un'espressione molto affettuosa come un genitore o un insegnante o un allenatore che può comunicare verso il figlio verso lo studente verso lo sportivo di fare la cosa giusta l'invito di oggi quindi potremmo dire che è un invito amorevole al discernimento ma come ogni invito di Paolo ha una certa urgenza non dice se ci pensate fate anche questo no c'è urgenza in quello che Paolo dice vi esorto Paolo quindi prima di concludere la sua lettera ci avverte di vivere la nostra vita cristiana con occhi ben aperti guardate versetti 17 e 18 che sono il primo atteggiamento che noi dobbiamo avere dice ora vi esorto fratelli a tener d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto allontanatevi da loro costoro infatti non servono il nostro signore Gesù Cristo ma il proprio ventre e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici il primo atteggiamento di una chiesa sana se avete il foglio e volete prendere appunti è questa una parola forte una chiesa sana e attenta agli intrusi a quanti di voi piace la parola intrusi siete mai stati accusati grazie fernando altri la parola intrusi è una parola forte e nessuno di noi vuole essere accusato sentirsi un intruso è vero magari siete andati a quella festa di compleanno o vi sentivate un po' intrusi forse andate qualcuno e arrivi lì e ci sono tutti i parenti ti senti fuori luogo ma Paolo dice una chiesa sana è una chiesa che è attenta agli intrusi dirai Jonathan com'è possibile è una parola che non si può usare nella chiesa intruso è una parola offensiva è una parola cattiva dopo tutto noi siamo una chiesa che accoglie siamo una chiesa ospitale e spero che se sei qui per la prima volta hai già sentito questo non siamo Jonathan un club a numero chiuso non ci vuole per entrare il biglietto ma tutti possono entrare per quella porta eppure Paolo dice attenti agli intrusi sapete questo concetto degli intrusi non è nuovo nella Bibbia anzi se andiamo fino all'inizio della Bibbia scopriamo un primo intruso il primo intruso raccontato nella Bibbia ricordate chi era? chi? serpente bene bravi un serpente ma non un serpente qualunque un serpente parlante piccola parentesi ma Adamo e Eva non mi sembrava strano che c'è questo serpente che vi parlava però loro erano abituati a un mondo perfetto non avevano sospetti su nessuno e così hanno ascoltato quello che gli diceva questo serpente primo intruso insomma chi era questo intruso era Satra stesso in forma di serpente e poi ci sono stati intrusi nella famiglia di Dio e nel mondo da quel momento in poi penso alla maledizione di voi chiamate il giardinaggio di che cosa? Qual è l'intruso del vostro orto? L'erbacce esatto l'erbacce fino a prova contraria forse siete più esperti di me ma le erbacce sono intrusi o intruse se vedete delle erbacce vi do permesso se vedete delle erbacce sul marciapiede della chiesa non le accogliete con amore non le annaffiate strappateli sono intrusi ok? strappateli senza pietà anzi se volete potete direttamente andate all'orto di Jonathan che è pieno di erbacce che non le strappo mai perché mi sono arreso ok? quindi c'è posto per loro lì ma sapete ci sono anche intrusi nel mondo animale adesso mi voglio allungare un pochino ma dovete capire bene questo concetto ci sono molti intrusi nel mondo animale a casa mia gli animali hanno la pena di morte gli unici animali che vengono a casa mia sono zanzare e poi le mosche qualche scorpione ma conosciamo questi intrusi conosciamo questi animali che possono entrare per non parlare di scarafaggi o topi speriamo di no ma ultimamente ho scoperto di un altro intruso terrificante volete sapere chi era? o chi è? no? il cuculo conoscete il cuculo? cucù? non potete mai sentire quel verso? ah che bello che bello cucù? da bambino a casa Whitman c'era un orologio a cucù vi conoscete no? non funzionava quasi mai però quando funzionava a mezzogiorno cucù cucù ricordate? che simpatico non fatevi ingannare da questo animale è un animale cattivissimo questo animale sarà carino come orologio ma è un parassita vi spiego lo sapete che gli ornitologi ho detto bene gli esperti degli uccelli dicono che è la madre peggiore che c'è in natura infatti il cuculo femmina non vuole prendersi la responsabilità di covare le uova quindi che fa? trova un uccello che cova le uova ah che carino quell'altro uccello che mamma brava che cova è così brava che magari ci mettono le mie uova quindi con l'inganno imita il verso di un uccello predatore tipo un falco uno sparviero e fa distrarre questa mamma che va alla ricerca per proteggere il nido e intanto mentre quella è fuori a proteggere il nido che fa? lascia l'uovo ma non finisce qua mentre la mamma ha lasciato il nido ha messo quell'uovo lì la mamma torna ignane della situazione e cova il cuculo bebè con i suoi figli forse questo uccello dice che è strano pensavo avessi tre uova adesso ne vedo quattro secondo me non contano non sono molto bravi a contare questi uccelli e il cuculo ha trovato la baglia perfetto il cuculo quindi questo uovo nasce pensate prima delle altre uova si schiude è più grande degli altri figli degli altri uccelli prende il cibo destinato agli altri figli questo uccellino poverino questa mamma che pensa che è suo anche se è strano che è tantamente grande non si comporta come gli altri gli dà da mangiare gli dà da mangiare diventa grande grande e la cosa peggiore di questo cuculo sapete la cosa terrificante è questa appena c'è abbastanza forze ricordate che si schiude prima delle altre uova butta le altre uova fuori uccide gli uccellini di quella madre quanti di voi come me ogni volta che vedrete un orologio cucù siete pronti per mezzogiorno per fargli così lo sapete la brutta notizia è questa possono esserci cuculi anche nella chiesa è quello che Paolo sta dicendo gli intrusi di cui ci avverte Paolo hanno una sembianza sorprendente proprio con questo animale potremmo dire che Paolo ci sta avvertendo attenti ai cuculi che vorrebbero introvolarsi nella chiesa Paolo ci avverte tenete d'occhio certe persone come si comportano questi diciamo cuculi umani non ho mai detto cuculi così quante volte in vita mia questi intrusi nella chiesa di Cristo Paolo ce lo dice la prima cosa che Paolo dice è che gli intrusi provocano divisioni un po' come questo uccello che divide la madre dai propri figli mi ricorda le parole di Giuda penultimo libro della Bibbia e fratello di Gesù che ha scritto questo voi carissimi ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo hanno predetto quando vi dicevano negli ultimi tempi vi saranno schernitori che vivranno secondo le loro empie passioni essi sono quelli che provocano le divisioni gente sensuale che non ha lo spirito solo una settimana fa abbiamo affermato che l'unione fa la forza quindi è ovvio che Satana crea divisioni per indebolirci vi ricordate Genesi 3 abbiamo già citato come è entrato il peccato nel mondo Satana ha creato dubbio e poi divisione tra l'uomo la donna e Dio ci siamo staccati da Dio quando noi abbiamo ascoltato queste bugie di Satana quando siamo staccati da Dio non abbiamo più la linfa vitale in noi della vita eterna siamo staccati come una pianta che viene staccata dalle radici una volta che eravamo divisi da Dio quindi era più facile dividerci tra di noi ogni volta che qualcosa o qualcuno quindi ci tenta di dividerci dai fratelli chiediamoci questo chi avrà beneficio maggiore dalla nostra discordia noi l'altro fratello sapete qual è la risposta chi è che ne avrà il maggiore beneficio Satana esatto ma c'è una seconda strategia non soltanto queste persone questi intrusi vogliono creare divisioni ma gli intrusi provocano scandalo cosa sono gli scandali conoscete questa parola e abbiamo già visto questa parola in romani gli scandali sono inciampi la parola greca per scandalo è la parola inciampo qualcosa che è tra tu vuoi andare là c'è qualcosa che ti blocca qualcosa che ti fa cadere falsità dopo aver creato divisione tra Dio e l'uomo Satana li ha convinti ulteriormente dicendogli una bugia infatti Genesi 3 4 il serpente disse alla donna non morirete affatto ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male queste sono le parole di Satana che ci hanno rovinato per sempre o non per sempre ma quasi gli anticristi provocano scandalo cercando di mettere delle barriere tra i credenti e il Vangelo se Satana è riuscito a dividerci tra di noi non abbiamo più chi ci protegge non abbiamo più chi ci aiuta a ragionare biblicamente l'Apostolo Giovanni avverte in 1 Giovanni 2 26 vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurli Giovanni chiama proprio queste persone proprio in questo capitolo anticristi gli anticristi o gli intrusi sono falsi profeti Matteo 24 11 Gesù dice molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti Marco 13 22 dice perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per sedurre se fosse possibile anche gli eletti gli intrusi insegnano tutte quelle cose che vanno contro la sana dottrina della parola di Dio ecco perché siamo un pochino fissati sulla Bibbia perché proprio tramite la Bibbia noi possiamo distinguere il vero dal falso e perché fanno questo? perché loro vogliono dividerci? perché vogliono distrarci con queste false dottrine con questi scandali? perché lettra C gli intrusi servono chi? se stessi qui dice proprio che loro servono se stessi e non il nostro Signore Gesù Cristo è vero servono anche Satana è vero anche questo ma loro non sanno di servire Satana ma sanno che stanno servendo se stessi una delle differenze chiare tra un vero figlio di Dio e un falso e la motivazione per cui fa le cose il falso vive a scopo di lucro vive per arricchirsi il falso vive per soddisfare come dici qua un ventre che non è mai soddisfatto avete mai mangiato così tanto che avete promesso che non avreste mai mangiato più in vita vostra? mi ricordo il matrimonio di Alessia e Maria io non so come sono ancora vivo oggi c'era talmente tanto cibo ed era tutto buono almeno potevate fare le cose meno buone e poi c'è sempre la domenica con mamma Rachele mangia mangia perché lasciate il cibo? e così è il nostro ventre funziona così la nostra bella pancia che noi oggi mangiamo e diciamo ah dopo oggi non mangio più domani mi alzo la mattina che c'è per colazione? è interessante che il cibo ha causato molti guai nella Bibbia avete mai pensato che il cibo ha causato la nostra caduta come umani? un frutto non sappiamo che frutto è Michelangelo era convinto che fosse il fico molti pensano che sia stata la mela Esau per cibo ha venduto la sua prima genitura il cibo è pericoloso il ventre la pancia e non lo spirito è la motivazione del falso fratello il problema per i falsi fratelli non è solo questo loro desiderio insaziabile ma sanno che la verità non paga bene siete convinti questo le chiese sane non sono un posto dove arricchirsi quindi hanno bisogno di prendere delle chiese sane e metterci dentro le bugie perché le bugie pagano molto meglio c'era un ragazzo che frequentava anni fa era nigeriano mi raccontava che sapete chi sono le persone più ricche della Nigeria che la Nigeria è uno dei paesi più poveri al mondo così ma dietto sono pastori non pastori sani ma falsi pastori hanno i jet personali e loro promettono ai questi poveri io ti tu basta che dai a Dio e lui ti darà tutto quello che vuoi questa è una bugia non è nella scrittura conosciamo tutti le indulgenze che abbiamo ricordato ultimamente l'idea di indulgenze è proprio questo come possiamo pagare per quella basilica è tanto costoso ho un'idea perché non andiamo in giro a vendere un po' di vita eterna tanto loro crederanno a tutto quello che noi diciamo basta dire che c'è un c'è un purgatorio e che tu non sai mai quando arriverà in cielo e che se paghi magari arrivi più vicino puoi mai sapere quando sei arrivato no è un buon sistema economico soltanto che non è quello che la Bibbia insegna scopro di lucro fame fame di riempire le proprie pance queste sono le motivazioni dei falsi credenti e da chi vanno questi falsi credenti? Paolo ci dice anche questo vanno dalle persone più mature nella fede dalle persone più forti da quelli che sono saldi no gli intrusi lettra d seducono dice i semplici io sono una persona semplice almeno forse meno li dirai diversamente sono un po' complicato anche io siamo tutti un po' complicati ma siamo anche semplici ma questa è una semplicità qua e qua una semplicità sbagliata dice che gli intrusi seducono i semplici cosa vuol dire la parola sedurre se non attrarre sono andato al dizionario quindi se avete bambini piccoli vicini volete tappare le orecchie vi dico la definizione del dizionario che è molto più grafico di quanto avrei immaginato dice che lo definisce così convincere una persona con false promesse e col fascino ad avere un rapporto sessuale è quello che dice il dizionario questa è la seduzione e spesso i falsi profeti fanno proprio questo secondo Corinzi 1.11.13 dice quei tali sono falsi apostoli operai fraudulenti che si travestono da apostoli di Cristo non c'era meravigliarsene perché anche Satana si traveste d'angelo di luce viviamo nell'era di Facebook per i vecchi tra cui io Instagram per i meno vecchi e TikTok per i ancora meno vecchi ma è vero? ma cos'è che potrebbe descrivere questa cultura che ci siamo creata? ci piace più l'immagine che la sostanza ogni volta che andiamo nei social cosa facciamo? noi vediamo gli highlights di una vita che sicuramente non è rappresentata bene da quello che noi mettiamo su questi social siamo attratti a dello esteriore e non all'integrità è la verità purtroppo come cultura so che non è il caso tuo i semplici sono persone quindi che mancano di discernimento non sono ben fondati sulla verità e stanno solo aspettando il momento che qualcuno gli offre un vangelo migliore di quello che la Bibbia gli offre un vangelo fasullo più a portata all'uomo i falsi fratelli vanno intorno come cucoli o meglio ancora come dice la scrittura come lupi come Gesù e Paolo ci hanno avvertito i lupi cercano chi? i membri più deboli dell'egregge da sbanare per primi vestendosi con vestiti di pecore Matteo 7.15 dice guardatevi dai falsi provetti qualche vengono verso di voi in vesti da pecore ma dentro sono lupi rapaci atti 20.29 Paolo avverte alla chiesa di Efeso che abbiamo letto stamattina io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi rapaci i quali non risparmieranno il gregge basta leggere Apocalisse e la lettera a Efeso e capiamo che questo è avvenuto come ci dobbiamo comportare con gli intrusi? Paolo ce lo dice molto chiaramente allontanatevi da loro secondo Giovanni 9 è una lettera molto triste che scrive l'Apostolo Giovanni e afferma questo sicuramente è una delle ultime lettere scritte nel Nuovo Testamento chi va oltre e non rimane nella dottrina di Cristo non ha Dio chi rimane nella dottrina ha il padre e il figlio se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina non ricevetelo in casa e non salutatelo chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie Galati 1 8 e 9 l'ho letto stamattina e voglio condividere anche questa con voi dice ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato sia anatema maledetto come se non passasse adesso Paolo dice come abbiamo già detto lo ripeto di nuovo anche adesso se qualcuno vi annuncia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto sia anatema non so voi ma dopo questo avvertimento se fossi stato l'apostolo Paolo io avrei avuto più uno spirito giudicatorio e legalista e avrei detto quindi romani siate attenti a voi stessi di non essere voi stessi intrusi avete mai so che vi è successo perché succede in tutte le scuole italiane e nel mondo avete mai avuto una cicchettata dalla professoressa o dalla maestra a tutta la classe magari c'era uno che era colpevole e vi siete sentiti no in colpa anche se non avete fatto niente e Paolo non vuole fare questo e tu dice voi però non siete tra questi Paolo crede nelle persone non alle persone ma nelle persone Paolo ci dimostra adesso che dobbiamo avere gli occhi aperti ma anche i cuori aperti e Paolo aveva il cuore aperto verso la chiesa di Roma dice versetto 19 e arriviamo al secondo punto quanto a voi la vostra obbedienza è nota a tutti io mi rallegro dunque per voi ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati nel male Paolo dice io non vi conosco tutti di persona ma io sono convinto che voi siete obbedienti infatti il secondo atteggiamento di una chiesa sana è questo una chiesa sana gioisce nell'obbedienza non sempre quando pensiamo alla parola obbedienza ci vengono in mente pensieri positivi invece l'obbedienza è una gioia è un dono l'obbedienza dice Paolo qua si nota e prima che diventiamo tutti dei piccoli farisei o grandi farisei non vi voglio avvertire che non dobbiamo essere come i farisei che ubbidivano per farsi vedere sappiamo questo ma è anche vero che la nostra obbedienza sicuramente deve essere uno dei nostri tratti distintivi quando tu vivi la tua vita quando tu ubbidisci Dio qualcuno ti chiederà perché vivi così invece che come tutti gli altri che vivono così allora devo chiederci chiedermi prendiamo la leggera il peccato o siamo persone che amano Dio e lo vogliono ubbidire Paolo ha detto coraggiosamente ai filippesi lo stiamo leggendo come famiglia e ha detto questo siate imitatori fratelli e guardate quelli che camminano secondo l'esempio che avete in noi perché molti camminano da nemici della croce di Cristo ve l'ho detto spesso ve l'ho detto dico ancora piangendo la fine dei quali è la perdizione il loro Dio è il ventre ancora e la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna gente che ha l'animo alle cose della terra siate miei imitatori dice Paolo le chiese della Grecia e dell'Asia avevano sentito parlare delle chiese di Roma avevano sentito parlare in particolare dell'ubbidienza della chiesa di Roma ecco perché Paolo ci teneva tanto a collaborare con queste chiese e tu sei una persona con cui i fratelli desiderano collaborare una cosa sicuramente che è noto che quando noi ci mettiamo per Dio le opportunità sono sempre più di quelle che noi riusciamo a mantenere c'è una seconda cosa che causa l'ubbidienza non soltanto l'ubbidienza si nota ma l'ubbidienza porta gioia torniamo a quella parola l'ubbidienza porta gioia a chi ubbidisce Salmo 68 13 ma i giusti si rallegreranno trionferanno in presenza di Dio ed esulteranno di gioia pensiamo di trovare la felicità in tante cose temporanee ma vi do una brutta notizia ci lasceranno sempre delusi forse per un attimo siamo felici ma abbiamo sempre bisogno di più come una droga che non soddisferà mai come un peccato non per niente J.E. Packer grande scrittore che ha scritto uno dei libri più importanti che si intitola Conoscere Dio ha detto questo il modo per essere veramente felici è di essere veramente umani e il modo per essere veramente umani è di essere veramente santi quindi quando noi abbiamo sentito qualcuno dire ma è umano è umano sbagliare o peccare no è umano essere santi e poi il mondo e Satana ha distrutto quella santità che era in tutti noi attraverso Adamo e Eva e l'ha contaminato essere umani significa essere santi veramente l'ubbidienza porta gioia a chi la vede negli altri Giovanni 3 Giovanni 4 dice non ho gioia più grande di questa sapere che i miei figli camminano nella verità non soltanto l'ubbidienza porta gioia a noi ma noi abbiamo gioia quando vediamo l'ubbidienza negli altri nell'epistola ai filippesi denominata spesso l'epistola della gioia infatti Paolo afferma e sempre in ogni mia preghiera per tutti voi prego con gioia a motivo di che cosa? della vostra partecipazione al Vangelo dal primo giorno fino ad ora molti di voi siete genitori molti di voi siete insegnanti della scuola dominicale molti di voi avete fatto un discipolato con qualcuno nuovo nella fede e quanti di voi che avete avuto questa esperienza direbbero con me che nella vita di un seguace di Cristo non c'è gioia maggiore non troveremo maggiore soddisfazione maggiore guadagno che rivedere che le persone sotto la nostra cura ubbidiscono a Dio siete pronti a dire è vero? è vero l'ubbidienza porta gioia ancora due cose che fa l'ubbidienza l'ubbidienza è anche saggia avete mai pensato che l'ubbidienza l'ubbidienza e la saggezza vanno insieme quando noi ubbidiamo a Dio stiamo facendo la cosa più saggia al mondo quando vediamo una persona sciocca vediamo una persona che non ubbidisce a Dio non per niente i proverbi 9.10 il libro della saggezza dice il principio della saggezza è il timore del Signore e conoscere il santo è l'intelligenza l'ubbidienza è conoscenza è vero più noi ubbidiamo a Dio più noi lo conosciamo e più noi lo conosciamo più lo ubbidiamo infine l'ubbidienza è pura ancora questa è una parola che per molti non è stata rovinata quando pensiamo alla purezza pensiamo a qualcosa di incontaminato pensiamo a qualcosa di buono come un ruscello di montagna l'ubbidienza ci protegge dalla contaminazione del peccato il peccato sapete ha sempre le conseguenze non sempre le vediamo non so come cosa pensavano Adamo ed Eva quando hanno mangiato quel frutto e non sono morti stecchiti sul corpo al momento ma il peccato ha conseguenze il peccato prende tutto ciò che c'è di bello in questo mondo e lo stravolge lo rovina Salmo 119 dice come potrà il giovane rendere pura la sua via guardando ad essa mediante la tua parola Paolo desiderava che i fratelli di Roma vivessero vite incontaminate sagge e gioiose e sono convinto che desidera lo stesso per noi oggi ora Paolo conclude questa sezione potremmo dire che la lettera vera e propria finisce con queste parole che sto per leggervi il resto che vedremo nelle prossime settimane secondo molti studiosi è un po' scritto un PS quanti di voi molte volte quando scrivete una lettera a un email mettete un PS alla fine sono l'unico almeno io e Roman lo facciamo e altri PS la lettera vera e propria conclude con questa promessa guardate nelle vostre Bibbie versetto 20 il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi il terzo atteggiamento vitale di una chiesa sana è che una chiesa sana e sicura della vittoria a quanti di voi piace perdere? nessuno a quanti di voi piace vincere? dai tutti nessuno vuole perdere io vado a giocare a tennis per perdere beh io andavo a giocare a tennis per perdere perché contro Germi e Francesca non abbiamo mai vinto in tutti gli anni della nostra vita però noi andiamo sempre per vincere se siamo onesti tutti noi preferiamo vincere che perdere troppo spesso viviamo la nostra vita Cristiano come una sconfitta come dicevano i vecchi fumetti metapino non so nemmeno che vuol dire ma dà il senso ma qui dice che la vittoria è garantita la vittoria è garantita perché la vittoria non è la nostra è di Dio Gesù ha garantito la vittoria le porte dell'inferno stesso non possono sconfiggere la chiesa di Cristo Matteo 16 dice il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi ci ricorda la promessa di Genesi 3.15 vi ricordate quando Dio promette che schiaccerà la testa del serpente sotto la progenie della donna e chi è la progenie della donna è Gesù Cristo e siccome Gesù ha vinto anche noi siamo vincitori Romani 8.37 dice ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori come? in virtù di colui che ci ha amati il Dio della pace riporterà la pace il mondo oggi non ha pace la pace interiore esteriore non c'è la chiesa oggi non ha pace siamo in lotta ma Dio riporterà la pace per sempre gli ebrei ancora oggi si salutano con quale parola? lo sapete no? shalom sapete cosa vuol dire shalom? tutti lo sanno pace shalom sarà più che un saluto molto presto sarà una pace eterna per tutti i figli di Dio il Dio della pace riporterà la pace e poi dice una cosa che sembra quasi un controsenso il Dio della pace però sconfiggerà Satana per arrivare alla pace a volte come nella seconda guerra mondiale dobbiamo combattere la guerra il Dio della pace sconfiggerà Satana presto Gesù tornerà porterà via la sua chiesa giudicherà il mondo e condannerà Satana Apocalisse 20 versetto 10 dice che il diavolo che le aveva sedotte aveva sedotto le nazioni fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli la guerra che noi viviamo finirà perché il Dio della pace l'ha promesso noi possiamo vivere già vittoriosi come se fosse già vinta la battaglia e la guerra ma la nostra pace quindi può cominciare già da ora Gesù ha detto in Giovanni 14 27 infatti vi lascio pace vi do la mia pace non vi do come il mondo dà il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti il Dio della pace sconfiggerà Satana e infine il Dio della pace ci ha dato la pace per mezzo di chi? per mezzo del Signore Gesù Cristo per mezzo di Lui abbiamo ottenuto la grazia dice qua per mezzo di Lui il Signore Gesù è il nostro Signore per mezzo di Lui saremo con Lui e Lui con noi oggi abbiamo visto tre atteggiamenti di una Chiesa sana abbiamo visto una Chiesa sana e attento a chi? agli intrusi una Chiesa sana gioisce nell'ubbedienza e una Chiesa sana è sicura della vittoria voglio lasciarvi con queste domande in che situazione si troverà la nostra Chiesa tra cento anni e tra cinquanta e tra dieci e tra cinque saremo ancora una Chiesa sana? una Chiesa che sa discernere in unità la verità dall'errore? o saremo una delle tante Chiese nella storia che si sono sviate? saremo ancora una Chiesa riconosciuta per la sua ubbidienza? un'ubbidienza gioiosa saggia pura? saremo una Chiesa fiduciosa nelle proveste di Dio? saremo una Chiesa vittoriosa? la Chiesa di Cristo ha vittoria ma sappiamo che nella Chiesa locale non tutti sono figli di Dio ancora preghiamo Signore Santissimo noi ti adoriamo ti glorifichiamo ti ringraziamo ti ringraziamo grazie a chi tu ci hai fatto una promessa meravigliosa di vittoria e questa vittoria ci dà la motivazione per andare avanti e combattere combattere per la verità combattere per l'amore combattere per l'unità tra di noi Signore ti voglio pregare che possiamo essere fedeli nel non permettere che nessuno crei divisione tra di noi non c'è popolo più prezioso del popolo tuo del popolo che si ama e ti serve ti voglio pregare che tu possa mantenerci fermi nella verità e ti voglio pregare che noi possiamo continuare per il resto della nostra vita e anche dopo di noi che questa chiesa possa continuare nell'ubbidienza gioiosa a te grazie per il Vangelo grazie per la speranza grazie per la certezza che abbiamo in te che un giorno ogni sofferenza ogni tristezza sarà eliminata per chi ti ama e ti serve grazie Signore che siamo tuoi discepoli per volontà tua nel nome di Gesù Amen